Buonasera amici lontani e vicini, come potete notare finalmente il notiziario delle eolie online ha il piacere di avere come nostro ospite Giovanna Taviani che da Salina stasera si è spostata a Lipari per partecipare alla rassegna organizzata dal comune di Lipari dal tema eolie, donne e cultura. Ma ci sono anche altri due ospiti, l'assessore Tiziana De Luca e il preside della media Santa Lucia Renata Candia. Il tema di stasera è scuola e famiglie, due donne dai molteplici volti e fra l'altro alla media Santa Lucia un contributo l'ho dato anche Giovanna Taviani. È così? È così, sono molto felice di essere qua, finalmente ci incontriamo personalmente, voi ci seguite sempre per il Salina Doc Fest. Ho fatto un'esperienza molto bella grazie al preside Renato Candia per un tema che mi sta molto a cuore, cioè quello della cultura e della formazione. Cioè abbiamo realizzato questo corto che adesso verrà proiettato qui in questa bellissima piazza di Marina Corta, grazie all'assessore che ha avuto quest'idea di fare questa iniziativa un po' al femminile sulla cultura, insieme a Franco Figlio d'Oro Francesco D'Ambra. E arriva, eccolo lì. Adesso, eccolo, grande. E appunto, facendo un po', dando un po' immagina a quello che è il progetto e ragazzi all'opera della scuola con i ragazzi della scuola media di Lipari. E' un tema che mi sta molto a cuore e che è anche il tema della prossima edizione del Salina Doc Fest, scusate se faccio un po' di pubblicità, e cioè la cultura come bene comune, la cultura come diritto a cui abbiamo tutti, appunto, è un diritto alla cultura, è un diritto che ci spetta. In questo momento in cui lo Stato e il Governo in Italia, soprattutto, stanno facendo dei tagli ingenti alla cultura, quando invece la cultura è l'unica risorsa in grado di rilanciare il turismo, ma anche l'impresa, ma non solo, è anche l'unica arma per sconfiggere la corruzione, la mafia, la criminalità, per ridare un senso etico e civico. Quindi è un tema a cui ho aderito con grandissimo entusiasmo. Bene, fra poco ritorneremo sul Salina Doc Fest. Professore Candia, quindi si riparla di questo progetto, stasera la cosa ancora più interessante è perché c'è anche Giovanna Taviani. È bellissimo poterlo presentare in questa bellissima cornice, io mi unisco ai ringraziamenti all'assessore che ha avuto questa bellissima idea. Il progetto è importante per molti motivi, è un progetto in cui si tratta di legalità, Giovanna ha già accennato a diversi temi. Noi cerchiamo in qualche modo di farla provare, di farne oggetto di apprendimento e volevamo dare a questo progetto anche una visione importante, una testimonianza importante. Siamo riusciti ad avere la grande e straordinaria capacità di un autore come Giovanna che ci ha costruito questo film e che rappresenta non soltanto un documento su quello che è stato fatto, ma anche sul senso di quello che abbiamo fatto, quindi siamo orgogliosissimi e contentissimi di presentarlo. Assessore, quindi la rassegna continua in grande, stasera ancora di più grazie alla presenza di Giovanna Taviani. Sì, io sono molto contenta che sia il nostro ospite sia l'importantissima regista Giovanna Taviani che il preside, l'amico preside Renato Candia. Ho voluto inserire la tematica della scuola e della famiglia perché credo che siano due motori importantissimi della società. L'ho inserito in una rassegna che tratta delle donne, ma era doveroso comunque parlare di formazione, parlare di un percorso di crescita dei ragazzi che parte quindi da lontano e che parte da piccoli fino ad arrivare all'età adulta, proprio con il sapore della cultura e con la prospettiva della legalità, con la prospettiva proprio dell'avvicinarsi a certe tematiche che sono importanti nel quotidiano. Bene, allora ritorniamo al Salina Doc Feste. Quindi l'appello ha sortito l'effetto, si farà? Abbiamo fatto un appello dalla cultura alla politica che è anche in tema di questa serata, è arrivato il momento di dire basta, riprendiamoci quello che ci spetta, non solo la cultura ma anche i finanziamenti che noi abbiamo come Salina Doc Feste, come festival, ma tutti i festival scontano questa pena terribile, un ritardo, un credito, abbiamo un credito rispetto alla regione, all'amministrazione regionale siciliana che parte dal 2010. Questo ci ha creato dei problemi enormi e nonostante questo noi resistiamo, hanno aderito a questo appello tutti i personaggi che sono arrivati in questi anni dal Salina Doc Feste, da Franco Battiato a Vinicio Caposello, Roberto Saviano, tutto il cinema italiano, la musica Nicola Piovani, tutti i registri e i documentaristi per dire appunto basta, è arrivato il momento anche di decidere da che parte stare, decidere anche perché i fondi non è vero che non ci sono, i fondi sono stati spesi male e vanno dirottati in maniera giusta. E visto che la comunità ha bisogno di cultura e abbiamo scoperto che la cultura non è vero che non dà da mangiare, ma anzi apre e dischiude orizzonti e allora diciamo appunto ripartiamo da qui, ripartiamo e faremo questa edizione chiaramente in uno stato di emergenza, in una dimensione un po' più collettiva, condominiale, cioè bene comune, quindi tutti danno un po' qualcosa, quindi non c'è bisogno di avere grandi, ci sono dei festival che hanno degli istanti dei finanziamenti milionari, noi invece facciamo con poco, buono però, il nostro motto è non chiediamo nulla per noi, chiediamo molto per tutti. Ne approfitto, i ricordi del film Caos. Eh appunto sono anche emozionata di essere qui perché il cerchio un po' si chiude, io veni per la prima volta qui per girare Caos, l'ultimo episodio con Francesco D'Ambra, figlio d'oro, nell'84, anzi 83, avevo 13 anni, poi sono ritornata nel 2011 per il mio, sempre con figlio d'oro, per il mio Fughe a Prodi, viaggio alle ollie tra cinema e realtà, ci ritorno con figlio d'oro come aiuto regista e non più come attore, quindi ha fatto carriera per questo progetto Ragazzi all'Opera, oggi sono qui, il cerchio si chiude, vediamo, faremo un seguito di qualcosa? Allora le spiagge e anche la montagnola era bianca, si poteva arrotolare, no? Oggi purtroppo le spiagge bianche non ci sono più, un appello. Eh non ci sono più e i miei nipoti che ancora l'altro giorno li ho portati, abbiamo cercato disperatamente di trovare un piccolo ritaglio di sabbia su cui scivolare, abbiamo rifatto il volo d'uccello con cui appunto si chiudeva il film caos, ma la cosa è assurda, quello è un patrimonio dell'umanità anche, anche se era anche il oggetto di dramma e di appunto la silicosi per i cavatori di pomice, questa è la storia, queste isole sono bellissime e terribili, però al tempo stesso quello è qualcosa che è veramente rimasto nell'immaginario dell'umanità, ma voi sapete che io... Ancora ci sono le cartoline che girano per il mondo, no? In America quando sono andata a portare fuga a Prodi c'è la gente che mi diceva che era venuta apposta alle ollie per fare quella ruzzolata e poi si è trovato che si buttava sui sassi duri, ecco. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Giovanna Taviani, l'assessore Tiziana De Luca e il preside Renato Candia. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci. Grazie a voi.